Sta per partire un altro cantiere di riqualificazione di un palazzo storico del centro di Pesaro. La Regione Marche infatti investe sul miglioramento sismico di uno dei suoi palazzi, quello della sede del Genio Civile tra Via Gramsci e Via Le Buote, di fatto di fronte alla provincia di Pesaro Rubino e al Liceo Mamiani. Un investimento di 1.800.000 euro che oggi ha visto la firma sulle via ai lavori, alla presenza dell'impresa costruttrice, 400 giorni di lavori con il coinvolgimento anche dei 72 dipendenti interni della struttura che verranno traslocati rimanendo in centro storico. Vogliamo mettere in sicurezza i palazzi strategici del capoluogo di provincia, investimenti complessivi per 3.600.000 euro tra il palazzo della SOI, i lavori della SOI che abbiamo già fatto partire, sono avviati proprio questa mattina, ho fatto un sopralluogo per vedere come stanno procedendo i lavori e oggi consegniamo i lavori invece per il palazzo del Genio Civile. Un palazzo che aveva un indice di vulnerabilità sismico molto basso, quindi dobbiamo metterlo in sicurezza secondo i parametri di legge, un altro investimento da 1.800.000 euro. per la grande attenzione che vuole mettere la Giunta regionale, l'assessorato alle infrastrutture per questo capoluogo che poi da quest'anno è capitale italiana della cultura. Pesaro non deve essere solo capitale italiana della cultura per il 2024, ma deve avere degli edifici sicuri a servizio del capoluogo e dell'intera provincia. L'obiettivo è stato duplice, parte chiaramente dalla messa in sicurezza dell'edificio a livello sismico, dal miglioramento poi energetico dell'edificio, ma l'edificio è vincolato e noi abbiamo voluto investire anche sulla qualità dell'edificio. È un pezzo di storia di Pesaro, è un edificio riconosciuto sempre come un centro importante perché era il luogo dei servizi pubblici, quindi andiamo anche a recuperare la qualità architettonica in via Gramsci e in generale dell'edificio a livello sia esterno sia interno. È un intervento che riporta una sicurezza sismica, quindi un miglioramento sismico di questo edificio, che è un edificio strategico, quindi importante anche per le sue funzioni proprio di genio civile, che passerà da un indice di 0,1, quindi di protezione sismica molto basso e arriveremo a un livello superiore allo 0,6. Questo è un primo intervento, verrà poi fatta successivamente una riqualificazione energetica e nel contempo tutti i dipendenti sono stati trasferiti nella struttura qui al centro di Pesaro in via Mazzolari, anche questa è una struttura importante di una rivelanza architettonica e poi al termine dell'operazione di riqualificazione verranno riportati nella sede ufficiale. I tempi di secuzione sono 400 giorni, grazie anche alla riduzione dei tempi offerti in fase di gara da parte della ditta che è il Consorzio Romagnolo.